ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questi giorni non ho fatto i video perché ho avuto la febbre no perché avessi smesso vabbè prima di tutto cercate questo account youtube per la mod 0.42 con le mo con le hack poi cercate questo video vi lascio il tempo che vedeva ovviamente non abbigatore perché voi vedrete in descrizione della mia della mia del mio video ok bene nella descrizione e poi fate altro poi link da undurad link da undurad mod e fate a capire questo qua c'è questo qua non sto andando si poi eccoci qua poi facciamo qua clicchiamo questo poi ci porta qua poi dovete far andare qua e dovete vedete che qua ci sta scritto piccolo piccolo ci sta scritto piccolo dundurad for free c'è questo qui dundurad for free e poi fate lo cliccate poi poi andate qua sotto e fate questo questo qua poi cliccate don't road poi qua fate Don't Do Rod, poi scavica, andiamo qua e andiamo qua, e aspettiamo che si scavica, li aspetterò in silenzio. Si sta per scaricare, ok, poi cliccate, poi qua fate installa, e deve fare l'installazione, e aspettiamo che fai l'installazione. Ok, poi fate aprire, ed eccoci qua, dobbiamo dare permesso al mod menu, poi ci crasha, ed è normale, e vi andate su stumble guys, ed eccoci qua nella nostra mod, qua dobbiamo parlare, I understand, e poi eccoci qua, però voglio vedere se mi posso mettere il mio account, mi sa di no, ah beh comunque eccoci qua, metto tutto attivo, ma qui tolgo, ed ecco qua, vi faccio vedere tutte le schienze. poi quelle leggendarie, ci sono quelle skin speciali? ci sono quelle skin speciali? ci sono quelle skin speciali? drittura, poi io e molto, lì, poi gli adulti, Poi animazioni Poi i bassi Vabbè ragazzi spero che questo video Sia stato utile e ciao a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione